Non è andata male, tutto sommato. Lo riconosco. E operazione compiuta. Ma hai contato quante case ha avuto? 37. Da quando aveva 5 anni a quando ne ha compiuti 18, è passato da un affido all'altro nel giro di settimane. È a volte nel giro di pochi giorni. E il posto in cui è rimasto più a lungo è la casa della famiglia di Alina Rostov. Tre mesi. I genitori di Alina sono morti anni fa e hanno lasciato la casa alla figlia. Se c'è rimasto tanto, doveva stare molto bene con loro. Lei non crede? A quanto vedo, ho fatto nuovi proseliti. Voglio fare una prova. Ah. E un tè particolare? No, solo tè. Beh, l'importante è fare il primo passo. Da parte di Arcadi. L'hanno portata da poco. Buon tè. Mai è melencai a Sistra. Ciao. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.